Belgio, Lukaku, mi sento un riferimento per questa squadra. L'attaccante belga ha parlato al termine del match contro la Svezia, manifestando tutta la sua soddisfazione per la tripletta messa a segno. Quella di ieri è stata una giornata che Romelu Lukaku faticherà a dimenticare. L'attaccante nerazzurro infatti si è reso protagonista di una tripletta nel corso del match fra Belgio e Svezia, valido per le qualificazioni a 2024 euro. Il giocatore ha successivamente rilasciato un'intervista a HLN, in cui ha parlato del suo momento e di quanto si senta importante per la nazionale. Ecco le sue dichiarazioni, mi sento un riferimento di questo Belgio. Durante gli allenamenti ho cercato di coinvolgere i giovani e mostrare loro che il duro lavoro ripaga sempre. Non avrebbe senso urlargli contro o maltrattarli. So cosa vuol dire debuttare, perché sono stato nei loro panni qualche anno fa. Hanno fatto tutti bene e ora possiamo esultare. Anche se da lunedì il focus dovrà essere sulla Germania. Possiamo vincere, abbiamo giocato in modo più offensivo con lui. Non c'è stato molto tempo per lavorare, ma sono felice. Il cambiamento non è un male, se viene supportato dai risultati. I mondiali? Mi hanno deluso molto. Ci siamo fatti irritire e distrarre dal rumore esterno e dalle critiche. Ma non ci siamo mai disuniti come squadra. Si è visto anche in questa partita. Appena ho segnato, tutti sono corsi ad abbracciarmi come una famiglia. Ora dovremmo mantenere questo spirito.